48 e 40, 146 e... 48 e 60 No no, 48 e 6 Rifacciate, che vuoi assolutamente Non mi tagliate i calcoli? 12 e 5, 12 e 42 No no, guarda, 100... 100... 20 e 10, 15 36 e 8 Fate la somma per favore 36 e 8 No, fate questo qua che è di quel bel Secondi, secondi, no, secondi, 146, secondi, no, 146, secondi, no, non ero mai quelli che si, risponde anche se hai la cara per favore, si può fare tutti gli altri il malermo ha preso 147 le 3 il 147,ret�, si deve fare 150 questo teido si dirà? egnunoaki fattu' io li ho annunciato è arrivato a casa io Grazie a tutti.